C'è una costante, Antonio Picci che va in gol, c'è un risultato, il Trani che vince e questa la sintesi del pomeriggio del comunale di Trani, quarto successo consecutivo per gli uomini di mister Angelo Sisto che senza penalizzazione avrebbero 23 punti in classifica, la graduatoria invece dice 20 alle spalle del Corato, termina 1-0 contro Lugento in un inaspettato scontro ad alta quota, il tecnico biancazzurro sceglie il 4-2-3-1 affidandosi alla qualità di Caruso, mazzile e negro alle spalle di bomber Picci, risponde Oliva con Castrì ad ispirare Pardo e Mosca, passano 9 minuti e debito Dentamaro con una conclusione da fuori a scaltare Guantoni Desposito, portiere del Lugento, due minuti più tardi Picci di testa supera l'estremo difensore Salentino ma la palla danza in maniera poco chiara sulla linea di porta, il primo assistente segnala alla rete del vantaggio che l'arbitro però non rabbisa, rimane il dubbio per il Trani che continua ad attaccare, ci prova al minuto 14 e al minuto 17 ma la palla non vuole saperne divarcare la linea sino a quando sempre Picci sfrutta la solita sfera vagante in aria e non lascia Scampa Lugento, mette la zampata e porta in vantaggio i suoi che poi sfiorano il raddoppio al 39esimo con un colpo di testa di Caruso respinto ancora a disposito, senza dubbio il migliore dei suoi, si va a riposo con il vantaggio degli uomini di Sisto, il secondo tempo non regala ha fatto emozione, il Trani da grande squadre con un pizzico di maturità controlla e Lugento si affide ai lanci lunghi che hanno poco effetto però finisce così, il Trani esulta e coglie il poker di vittorie, all'orizzonte c'è già la sfida con il Corato per capire dove può arrivare veramente questa squadra.